la premiazione, brava complimenti, mettetevi qui per le foto e ora la seconda classificata qui per la premiazione Federica Croce e ora i primi classificati, tornate indietro ragazzi, Gabriele Litta, Ludovico Milani e così state qui per le foto, complimenti, grazie bravi grazie alla giuria, grazie a tutti gli ospiti intervenuti, grazie all'Accademia di Costume di Moda arrivederci al prossimo anno, ciao grazie a tutti grazie a tutti